Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianchi e Rosso Tibisport. Devo dire la verità che mi sento un po' in imbarazzo ad andare in onda in una situazione di questo tipo perché non che dobbiamo far finta di niente, però è chiaro che andiamo in onda dopo che c'è stato il terremoto in pratica perché più passano i giorni e più ci rendiamo conto di quello che è accaduto. A noi che stava stretta la Serie B dobbiamo ricominciare dalla Serie D. Quella che abbiamo seguito per tanto tempo io e Francesco Monteleone con il processo direttante. Penso un po', siamo stati se vogliamo antesignani di un modo di fare informazione che forse andrebbe riproposta. Diciamo che se proprio dobbiamo trovare un vantaggio sui milioni di svantaggi dello stare in queste categorie che non ci potrà essere più la spocchia, non potranno esserci più le porte chiuse che abbiamo trovato per tanti anni in questo calcio professionistico. Noi entravamo addirittura negli spogliatori e andavamo a mangiare con i calciatori prima delle partite. È una magrissima consolazione, neanche una consolazione, però è un aspetto che deve far riflettere. Del resto vedete come sono cambiate le cose. Prima non parlava nessuno, ora calciatori, direttori sportivi, ora parlano, ora parlano tutti, sono come liberati da un carcere praticamente. Tutti parlano, tutti dicono e tutti fanno. Perché farlo così tardi? Forse è meglio farlo un attimo prima, forse avremmo capito tante cose. Comunque ormai è questa la situazione. Domani c'è la riunione in Curva Nord allo Stadio della Vittoria per decidere quale può essere il futuro del Bari. Il sindaco De Caro ha convocato tifosi, componenti dell'informazione per capire in che direzione andare, anche perché bisogna fare in fretta perché entro il primo agosto credo vada iscritta una squadra al campionato di Serie D. In cuore nostro c'è ancora la speranza che con un decreto eccezionale ci facciano giocare la Lega Pro. Non perché la Lega Pro sia un campionato, però è un campionato più vicino alla B. La D è molto distante dalla Serie B, occorrerebbero comunque minimo due stagioni. La Lega Pro, a mio avviso, è un campionato dove tutto sommato puoi avere la speranza, con un pizzico di fortuna, con una programmazione fatta bene, di risalire nel giro di un paio di anni. Francesco, questa è la mia premessa abbondante. Mi stai guardando strano, come se stessi dicendo cose... No, no, ascolto con attenzione. Io sto male fisicamente, dove dite la verità. Sì, sì, mi sento male fisicamente. È come se mi sentissi debole, non so perché. Non sei l'unico. Ieri mi ha scritto un altro mio compaesano, che si chiama Francesco Calabrese, che faceva il portiere da ragazzo, poi è diventato carabiniere. E lo stesso, lui sembrava avesse una malattia inguaribile, incurabile. Non è così, dai. Anzi, ti dirò che un aspetto di una vita vera, di una vita veramente vissuta, è proprio quello di avere nella vita stessa avventure, disavventure, lotte, sconfitte e rinascite. In questo il Bari aveva tutto sommato una piattezza nel proprio destino. Una navigazione lenta e banale, diciamo. Era diventata noiosa proprio la nostra passione. Così invece questo sussulto, questa scossa, questo dolore, questa sofferenza sarà salutare. È una sofferenza comunque temporanea, nel senso che grazie a Dio, se mai Dio esiste, non è una morte definitiva, è una punizione, è una sconfitta temporanea. E quindi, come dicono i filosofi, non è tanto la capacità di sopportare la sconfitta, è la capacità di rinascere che conta. E quindi questo bisognerà dimostrare, inizierete domani a farlo col sindaco. In quest'ottica, quella che ci stavi raccontando tu, va un comunicato dei Bulldog, uno dei gruppi storici della Curva Nord. Il barese non muore mai, il barese accusa il colpo ma si rialza sempre. La nostra città e i nostri colori non moriranno mai. Tapeziamo la città dei nostri colori, ad ogni balcone, ad ogni finestra, in qualunque posto della vostra casa sia visibile. Una bandiera, una sciarpa, qualsiasi cosa inneggi alla vostra fede calcistica. Bari non è morta, non potrà mai morire, finché resterà nei cuori di tutti. Ritorneremo più forti di prima. Un bel messaggio, però io devo dire una cosa, lo dico con molta franchezza e con tutto l'affetto del mondo. Queste sono cose belle, sono bei messaggi, però i tifosi devono aprire gli occhi. I tifosi li hanno tenuti chiusi, anche quelli organizzati, in questo periodo. Perché ci sono state cose che francamente vedevano più dagli altri settori che non in curva, dove dovrebbero... Io capisco l'amore, capisco l'affetto, quello che vuoi, però uno spirito critico ci deve essere. Non può non esserci spirito critico. È come far crescere un figlio, dargli sempre amore, 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 magari pur sapendo che il figlio in quel momento ha bisogno di un paio di cefoni. Insomma, il vero problema, o di un rimprovero fatto bene, il vero problema che a mio avviso anche... Allora, questo è un fallimento, che non è solo il fallimento del Bari, inteso come squadra, inteso come società. È il fallimento, a mio avviso, di un sistema che ruotava intorno al Bari. Dobbiamo fare la mia colpa anche noi dell'informazione. Devono fare la mia colpa i tifosi, tifosi che forse sono stati troppo a contatto con la società. I tifosi non devono stare a contatto con la società. I tifosi devono guardare la partita, devono mostrare i colori, non devono conoscere neanche le facce dei dirigenti del Bari. Io sono convinto che non deve esserci contatto di nessun tipo tra tifo organizzato e società. Lontani, lontani, lontani. Ognuno fa il suo, i tifosi fanno il tifo, i dirigenti della società fanno i dirigenti della società. Delle istituzioni, intese sia istituzioni locali che istituzioni del calcio nazionale, perché non è possibile non andare a controllare chi si prende le squadre di calcio. Io credo che per molto meno ci siano controlli rigidi. Se tu prendi in mano una squadra di calcio, che è il patrimonio del calcio italiano, ma il patrimonio anche di una città, devi controllare chi sei per avere la squadra di calcio. Questa è la domanda che bisogna porsi. Non è difficile fare una cosa del genere, perché poi altrimenti ci ritroviamo adesso a far cosa. Tutti ora dicono, ma Gian Caspro, Gian Caspro, Gian Caspro, ma ormai non serve a niente. È troppo tardi. È troppo tardi. Gian Caspro ha commesso una serie di errori che nella psicanalisi vengono definiti autolesionistici. L'errore più grande è stato l'austinazione. Diceva un vecchio saggio del mio paese se tu continui a sbattere la testa contro il muro non è sicuro che lo attraverserà il muro. Lui ha continuato a sbattere la testa contro il muro e non sapendo che stava commettendo degli atti che lo stavano portando al fallimento. Poi ha commesso un errore. Ma in questo, vedi, se non si ha qualcuno che ti aiuta o se si rifiuta qualcuno, uno cade nel precipizio degli errori. Un altro errore grossolano che ha commesso Gian Caspro, secondo me, è stato quello di tentare di salvare la faccia a tutti i costi. Salvar la faccia a tutti i costi spesso è una decisione sbagliata. E poi un altro errore è stato l'illusione della invulnerabilità. Era convinto di essere invulnerabile, ma questo un po' anche paparesta forse da così. Invece noi siamo vulnerabili sempre perché non sappiamo, possiamo prevedere da dove arrivano tutte le sofferenze e tutti i mali. E poi ha commesso anche un altro errore. Ecco, se devo andare così un po' in maniera intuitiva, ma quando parliamo, noi parliamo sempre per ipotesi, non siamo portatori di verità oggettive, non facciamo un ragionamento deduttivo, facciamo un ragionamento induttivo. Un altro errore grossolano che in questi mesi, perché io sono un innocentista da questo punto di vista, non credo alla sua mala fede, non credo che un uomo vada, come dire, si distrugga, distrugga la sua fama, distrugga il patrimonio e lo faccia scientemente. Lui si sta rovinando, si è rovinato probabilmente, la sua fama, la sua memoria sarà disgraziata per anni, quindi non credo che un uomo lo faccia così spontaneamente. Ha commesso una serie di errori che sono stati fatali per lui, che sono fatali per lui. Un altro è stato quello di, diciamo, un eccesso di impegni. Si è caricato di impegni, mentre invece quando si organizzano società di questo tipo, bisogna suddividere gli impegni e trovare delle persone responsabili che collaborano con te. Accollarsi tutta la fatica di una società come ha fatto lui, a un certo punto è andato pure a vivere nello stadio. È stato un eccesso di dedizione che però gli è stato fatale. Prendiamo la telefonata, è pronto? Sì? Eccoci. Io non sei più in attesa. Eccoci, non sei più in attesa, puoi parlare. Grazie. Grazie. Buonasera. Devo dire da fuori buonasera. Io conosco lei da molti, molti anni. Grazie. La vostra potenza, il vostro modo di fare con quelli onesti come te che ti conoscono. Dovevi parlare prima di quello che adesso stai dicendo. La società, una parte, il tifoso dall'altro o quant'altro. L'abbiamo tutti abbandonato il Bari a mercenari del genere. Non vorrei ripetere il dolore che ha dato a noi cittadini, non lo vorrei ripetere, ma credimi che io non riesco ancora a capire perché ha fatto questo. Ma in futuro ti invito, ti invito caldamente, dovete voi salvaguardare, voi dovete parlare, salvaguardare con democrazia ma parlare. Io ho detto non soltanto la stampa, ho detto in parte la stampa, in parte la tifoseria, soprattutto quella vicina, quella organizzata, perché i tifosi diciamo che vanno allo stadio, che colpe hanno? Non hanno nessuna colpa, hanno dato tutto con grande dedizione in maniera assolutamente genuina. Le istituzioni locali e le istituzioni calcistiche. Io per quel che mi riguarda, mi metto anch'io nel calderone di quelli che avrebbero potuto fare di più, però io per un anno, un anno, lo dico con molta serenità, perché comunque per fortuna diciamo le spalle larghe, lo scorso anno ho vissuto professionalmente un anno difficilissimo, un anno quasi infernale. Perché comunque delle cose dette da me e scritte da me sul mio giornale su Repubblica avevano dato molto fastidio ai piani alti del San Nicola. Ho vissuto un anno difficilissimo. Diciamo che io e Michele Salomone non eravamo molto simpatici ai piani alti del San Nicola, in particolare la storia lo racconta, non sto dicendo cose fasulle, sto dicendo cose reali. Quindi comunque, però in quei casi lì bisogna essere molto più compatti, molto più uniti, non può essere la battaglia di uno o due contro tutti, perché poi alla fine quando si è in inferiorità numerica si corre il rischio di essere messi in difficoltà. Con questo voglio dire che non mi voglio tirar fuori dal calderone, avrei potuto fare anch'io qualcosa di più, però io sento di aver fatto determinate cose. Avrei dovuto forse fare qualcosa in più, che invece evidentemente non ho fatto. Però al di là di questo, io ripeto, è tutto il sistema Bari che deve farsi un esame di coscienza, perché non doveva finire in questo modo. C'è un'altra telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Marco 55. Ciao. E saluto moltissimo Francesco. Buongiorno. Ciao. Quando ascolto lui mi si aprono gli orizzonti a 360 gradi. E lui questo fa, lui questo fa. È il filosofo che ci vuole una società del Bari, secondo me. Che per drammatizzare che per organizzare. È una persona capace. Grazie. Volevo dire, io personalmente mi ero accorto del tuo disagio di Mettere Salomone, perché comunque tu forse ti ricorderai di me quando nel settemnato precedente all'ultima promozione avevamo quattro gatti a Sede Bari a parlare di programmazione. Sede Bari a parlare di Mettere Salomone, per cui veramente gli errori gravissimi fatti nel passato, sia dal punto di vista societario che di rapporti con i tifosi, vanno le tramele cambiate. Si è capito oramai che un solo elemento non può creare una squadra, sicuramente al Sede, salvo che non venga un Abramo o un Sunnit. L'unione fa la forza. Quando riguarda i tifosi, tra i quali ci metto anche io, la cosa che bisogna chiedere è solo la comunicazione, quindi avere a che fare con persone di calcio, di ex giocatori, che faccio dirigenti, ma un certo tipo di ex calciatori, non tutti, perché ci vuole anche una certa intelligenza, preparazione per parlare con la gente, perché noi non chiedevamo altro che collochi per capire la vita della squadra, cosa si faceva, cosa si faceva, niente di più amaro o suddolo nei confronti di chi evidentemente era lui nei nostri confronti. Grazie per il tuo intervento. I danni che fanno al cuore dei tifosi, abbiamo raccontato di quelli del Bari in questi giorni, però ci sono altre squadre che spariscono dal calcio che conta. Noi abbiamo trovato un video veramente commovente di un tifoso disperato per il fallimento della Reggiana, che è una squadra che comunque ha giocato anche in Serie A. Guardate queste immagini, un vecchietto tifoso della Reggiana. Ma non si fa così, 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 no, non si fa così. Hai visto? Ti dirò che quello che è successo al Bari, secondo me se lo aspettavano da tempo un po' tutti, noi da tempo, tu dici le varie componenti, era da tempo che in questa città si sognava ad occhi aperti. E sognare ad occhi aperti non è sbagliato, perché sviluppa l'immaginazione. Il problema è che a un certo punto bisogna smettere di sognare ad occhi aperti e ricollegarsi con la realtà. Noi continuavamo a sognare ad occhi aperti e quindi sognavamo di vincere, di competere con le sguate più parti. In realtà chiudevamo gli occhi ad una realtà che era molto più visibile. Tu parli di responsabilità, potevamo fare di più. Probabilmente è stata quella voglia di non affrontare i problemi che ci ha disilluso un po'. Però dopo questa disgrazia, secondo me bisognava elaborare di più il lutto. Noi abbiamo adesso il difetto che quando muoiono le persone care, subito le portiamo a seppellire. Le bruciamo, invece una morte simbolica di questo tipo, che poi morte non è in realtà, bisognerebbe farci riflettere di più. Il Bari è morto, speriamo che non muoia totalmente e già si pensa ad un Bari che vincerà, che risalirà completamente. Non è così. Bisogna meditare su questa scomparsa e bisogna rimeditare, bisogna parlare fra di noi e non solo, fra di noi e capire perché non si è curato in tempo quel malato grave. La persona che parlava prima diceva che parlava di comunicazione giusto. Il difetto che hanno queste società, ma è da molto tempo però, che a te hanno perseguitato l'anno scorso, io ricordo che ai tempi di Mattarese una persona che faceva paura, spesso mi ha inseguito fisicamente negli spalti, cacciandomi, sputandomi addosso, minacciandomi. Quindi questa tecnica di intimorire un po', d'altronde i giornalisti vengono picchiati tutti i giorni. Tutto sommato ti è andata pure... A proposito, diciamo, l'altra faccia della medaglia è il tifoso che piange, un presidente che rischia di portare la sua squadra a falimento, perché anche l'Avellino rischia il falimento, ma guardate con chi se la prende. Ho grandi possibilità ed aspettative di ritenere che l'Avellino verrà iscritto regolarmente al campionato e non avrà neanche un punto di penalizzazione. Questa è l'idea di taccone. Poi verrà sconfessato? Può darsi. Però se dovesse succedere questo, poi, andrò a chiamare uno per uno quelli che hanno scritto, non mi riferisco a voi, perché non c'è sempre in aula. Andrò a scrivere, andrò a pescare uno per uno le persone che hanno azzuppato il famoso pane nel biscotto, nel latte. Andrò a prendere uno per... No, a me non mi interessa niente il nazionale. Gli apprendete uno per uno, insomma. Ammazzo che linguaggio truculare. Un altro limite della società, delle società che hanno gestito il Bari, ma anche degli allenatori, è stato quello di non legarsi mai alla città. La forza, non è solo l'unione, come diceva la persona che parlava prima, la forza è anche l'amore per la città. Oggi ti dirò che mi ha emozionato l'intervista di Torrente, il quale ha detto sulla Gazzetta, credo che Antonello lo ha intervistato. Che vorrebbe allenare i Bari anche... Sì, ma vieni ad allenare i Bari perché ha un rapporto emotivo con sentimentale. E' l'allenatore che ha portato la squadra a fare l'allenamento su Lungomare, Torrente. Eh vedi, non è che io non ci capisco, non sono... Lo chiamiamo Vincenzo Torrente, Cristian, se è possibile salutarlo un attimo, perché Francesco sta evidenziando un aspetto. Facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria, se è possibile. E poi, anzi, prima della pausa pubblicitaria, il sondaggio che abbiamo lanciato attraverso le nostre pagine Facebook, quale stadio preferite per il futuro del Bari? Lo stadio della Vittoria o il San Nicola per la prossima stagione? Al momento, non dico un plebiscito, però un netto sì per il della Vittoria 65%, mi ci metto pure io. Contro il 35% del San Nicola, anche se l'assessore Petruzzelli ha detto che l'obiettivo è quello di far restare in vita lo stadio San Nicola. Sei contento? No, ho sentito ieri l'intervista al Rai 3, non mi è piaciuto per niente, dava per scontato la manutenzione, lo stadio è da abbattere, bisogna... E i soldi che ci vogliono per recuperare questo qui sono gli stessi, anzi sono meno, quelli che ci vogliono per recuperare il vecchio stadio, che è meraviglioso. Io sto lavorando alla fiera adesso, all'ufficio stampa della fiera, per un paio di mesi. Ogni giorno passo lì davanti e mi batte il cuore, sarà che da bambino sono andato lì, ma quegli androni, quegli ingressi, quello spazio... E lo stadio dei sogni come lo chiamo a Gili. Andiamo in pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme con il Bianca e il Rosso TV Sport. Riecoci insieme con il Bianca e il Rosso TV Sport e con Francesco Monteleone. Ci sono molti messaggi. Michele, c'è possibilità di partire dalla C? E come tempistica? C'è possibilità di organizzare un organico? Tutto si può fare, bisogna capire se si può partire dalla C? Una delle possibilità era quella proposta da Nicola Canonico, imprenditore barese, che ha già praticamente portato il titolo Biceglie a Bari. A Bari, certo. Quindi il Bari col titolo del Biceglie, ma si chiamerebbe comunque AS Bari 2018, giocherebbe al campionato di Lega Pro. C'è stata una sorta di insurrezione quando hanno ricevuto questa... Ma lì, dopo che hai finito questi messaggi e se la tua collaboratrice, la Girl Boys, mi fa due barchette, ti spiegherò che cosa è successo con Canonico. È una questione della filosofia classica quella lì, ma finisci e fammi fare le due barchette. Le barchette? Se c'è qualcuno che mi... Che sa fare due barchette con la carta? Due barchette parleremo di Canonico. Un attimo soltanto, no, non è un 080 il numero, è un 338. Allora, Paolo, spero che arrivi una proprietà senza fini politici, un abbraccio a tutti e due. Nicola, il grande Francesco, l'ideatore di Donde Biancorosse, quanti ricordi? Francesco, il Bari e Baresi, credo che i tempi siano maturi per azionato popolare. Secondo te? Sì, ma so anni che diciamo sta cosa. Io farei sul profilo Facebook di Telebari, facciamo un gioco. Dichiariamo quanto metteremo a, diciamo per la nostra, senza metterli naturalmente, dichiariamo quanto metteremo ognuno di noi per comprare le azioni di questa, vediamo che cifra accumuliamo. Io metterei 500 euro dei miei piccoli risparmi. Apriamo un profilo e vediamo a quanti denari arriviamo, perché l'azionariato popolare è la forma di democrazia massima. Sono d'accordo con te, lo dico da, ma non da oggi, lo dico da anni. Eh, appunto. E siamo aspettati che arrivi Zeo Tom dall'America. C'è qualcuno che sappia farlo. Nino, buon pomeriggio ed un saluto a tutti voi. L'accoppiata barese, BG Camoruso, il primo allenatore, secondo direttore sportivo, non mi dispiacerebbe. Che ne pensate? Baresità in prima linea, sono d'accordo con te. Francesco, prendiamo Zeeman, anche se non è barese, io vorrei Zeeman tutta la vita. Anzi, Zeeman sarebbe, guarda, mi farebbe tornare il sorriso. Zeeman in Serie D col Bari, perfetto, va bene lo stesso. È vero. Quindi io sono per Zeeman tutta la vita. È vero. Quindi mi ha fatto tornare il sorriso Zeeman, non so perché. Quando sento parlare di Zeeman, mi piace, non lo so. È stato il grande. Federico, perché non ripartire in panchina da Zironelli? A Zironelli credo che sia stato affidato il compito di allenare la Juventus B, la seconda squadra della Juventus. Adesso che è andato via? Appena è andato via, sì. Michele, quando sapremo in quale serie e con chi riprenderemo a fine mese? È vero che Canonico ha avuto l'ok dalla Federcalcio e Malagò per il trasferimento del titolo del Bisceglie a Bari con l'appoggio di Vito Ladise del Sindaco? Qualcuno l'ha scritto. Prendiamo la telefonata? Sì. Sì, prendiamo la telefonata. Pronto? Buonasera Enzo. Ciao. Ciao, sono Leonardo. Ci siamo sentiti parecchie volte. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Io, 57 anni, ho pianto come un bambino. Eh. Come un bambino. Io volevo dire una sola cosa, signor Francesco, quelli con te, con lo saluto. C'è gente che lavora proprio per far fallire delle agente. Io non riesco ancora a capire come mai questo personaggio ha mandato l'aria a tutta la città. in giro. C'è una brutaria proprio... Mesta, triste, è un lutto cittadino. Se io parlare con te, ho la pereduca. È un lutto cittadino. Guarda, è vero. Lo so, io sono notti che non riesco a dormire. Non riesco ancora così. Io comunque, sempre fosse a Bari, in serie D seguirò la Bari. Con tutto il cuore, con tutto l'amore. Lo faremo anche noi, anche noi di Telebari, senz'altro. Ci sono da mettere un po' di... Non vi lasceremo, saremo con voi anche... Non vi metterò. Anche se il Bari non esistesse mai più, noi parleremo del Bari. Non vi preoccupate, state tranquilli. Intanto queste sono le immagini registrate ieri allo stadio, perché a un certo punto sono spuntati i carabinieri, adesso non sono ancora chiari i motivi del blitz dei carabinieri. È arrivato un messaggio ai cronisti della redazione di Telebari, dove si fa riferimento a una normale operazione di controllo del territorio. C'è chi dice che stessero portando via persone legate al Bari e alla società, soprattutto alla proprietà del Bari, addirittura a lattine di bibite, altre storie. C'è un mistero rispetto al quadro di San Nicola. Magari domani cercheremo di contattare anche chi l'ha regalato al Bari tanti anni fa. Signora Andreola, quel quadro che stava all'ingresso dello stadio è sparito anche quel quadro, praticamente, che era lo quadro di San Nicola che in qualche modo proteggeva il Bari e i suoi tifosi. Abbiamo una telefonata? Collegamento o telefonata? Pronto? Pronto. È Vincenzo Torrente? Sì, ciao. Ciao Vincenzo, ciao, ciao. No, ti abbiamo tirato in ballo, sono con Francesco Montelione, perché Francesco, il mio ospite, ti ha fatto i complimenti per quello che tu hai detto oggi in un'intervista sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Gli sono piaciute molto le tue parole in un momento così, diciamolo, drammatico per la storia del calcio barese. A Francesco sono sembrate una sorta di lucina in fondo al tunnel, no? La luce da seguire per uscire da questa situazione. Francesco, puoi riferire personalmente quello che mi stavi dicendo? Beh, buongiorno mister. Buongiorno, buongiorno, grazie per le parole. Non la conosco personalmente, ma le dirò che mi ha, come dire, ha provocato una forte emozione, che come lei sa, in città c'è un lutto collettivo. Un allenatore che dice di voler tornare in una situazione tanto difficile e che dichiara, dimostra di essere legato anche sentimentalmente, moralmente, alla città. È un allenatore che ha portato la squadra in città, mi diceva Enzo, quindi per cercare quella fusione umana, morale, sportiva, che è necessaria tra una squadra e la città nella quale questa squadra opera, ecco, è un esempio illustre di campione. Quindi mi congratulo con lei e mi auguro che lei torni a Bari. Le affidarei immediatamente la squadra, se potessi. La ringrazio, la ringrazio, ma ho detto soltanto la verità. Bari sono molto legato, hanno passato due anni stupendi. Comunque anche nelle difficoltà di grandi soddisfazioni, è triste vedere quello che è successo per una città come Bari, senza calcio. Quindi mi ha toccato, ecco, però se mi è stata fatta una domanda ieri sulla possibilità, nel caso ci fosse la possibilità di tornare a Bari, io ho detto sì, ci sono le condizioni di una programmazione seria, con persone serie, sì, non faccio una questione di categoria perché Bari è Bari. Si è stato chiaro Vincenzo, Bari è Bari, questo ci piace, è musica per le nostre orecchie. Io ti ringrazio e ringraziamo Vincenzo Torrente per essere stato con noi. Questo è lo spirito che, devo dire, avremmo voluto anche da quelli che abbiamo sempre considerato gli angeli custodi che erano all'interno della società, perché ci sono dei baresi, sia tra i dirigenti che tra i collaboratori dello staff, c'erano baresi, gente che ha vissuto e cresciuta col Bari, insomma, loro dovevano aprire gli occhi e dovevano avvisarci di qualcosa che non andava, loro stavano lì, potevano benissimo intervenire prima. Ora non è il momento di fare i processi, però per non ripetere questi errori dobbiamo anche evidenziare certi aspetti. Ripeto, c'è gente che è cresciuta nel Bari, gente che è vissuta con la maglia bianco-rossa Tosso, gente che, insomma, sono stati là questi anni e non è possibile che in due anni non si siano accorti assolutamente di nulla, non è possibile, non è credibile, almeno di anomalie, almeno di anomalie. Allora, Sisse, adesso i giocatori del Bari sono tutti liberi e quindi comincia la spesa al market Bari. Galano penso che sia andato già al Parma, Henderson sta andando al Verona dove raggiungerà Sisse, che ieri ha segnato peraltro nell'amichevole tra Fiorentina e Verona, finita 2-1 per i Viola, gol di Sisse per il Verona dove c'è Fabio Grosso, sentiamo le sue parole in ricordo della sua esperienza a Bari. Chi meglio di te conosce Fabio Grosso? Come l'hai ritrovato qui a Verona? Il solito, diciamo, porta sempre la sua mentalità da vincente, si fa lavorare molto sul campo, è uno che lavora giornalmente, come si vede solo con il lavoro, diciamo, con il sudore si pagano, quindi lui è uno che lavora molto e credo che ci darà una grossa mano. Senti un calcio che perde i pezzi, fra cui il Bari, volevo chiederti se ti aspettavi questo epilogo e cosa hai captato nel corso della stagione, se magari c'erano i segnali oppure se al contrario pensavi che magari in extremis sarebbero riusciti a salvare tutto quanto? Qualche segnale, diciamo, c'era, però alla fine si sperava, comunque per l'annata che ho passato, per gli amici che ho fino adesso, però è un grosso dispiacere comunque nel calcio, sia per la gente di Bari, per la tifosia Lidia, pure per lo stesso Cesena, diciamo, non è mai bello per il calcio, le situazioni così, però purtroppo nella vita si va avanti. I calciatori troveranno facilmente una ricollocazione, il pensiero, il mio pensiero, il pensiero di tutti noi deve andare anche ai dipendenti, credo 17 dipendenti del Bari che invece hanno perso il posto di lavoro, magazzinieri, gente che lavorava in altri settori, credo che c'erano 17 persone che in questo momento perdono il posto di lavoro, mentre i giocatori vedrete che in un modo o nell'altro sapranno ricollocarsi. Anche l'Andria è fallito. Senti, stai barchetti in mano, mi devi spiegare un po' la storia delle barchetti. Questa è una questione della filosofia classica, che però ti farà pensare a quello che è successo con Canonico, perché con Canonico è successa una cosa non chiara, avere l'attitudine diciamo al pensiero, non vuol dire che si sa pensare. Allora, ti racconto in un minuto questa analogia. Un costruttore di barche che si chiama Teseo costruisce questa barca che si chiama Argo. Questa barca inizia a navigare e mentre naviga il comandante cambia le parti di questa nave, fino a cambiarle tutte totalmente. La nave arriva in porto e il comandante con le parti che ha cambiato della precedente Argo costruisce la seconda Argo, che è fatta con i materiali della prima barca originale. Allora, quale delle due navi è Argo? Quella che ha navigato ed è arrivata alla fine o è quella che è stata costruita con i materiali originali? Con Canonico è successa questa cosa ed è importante affrontarle pensando. Canonico in realtà ha sostituito le parti, voleva sostituire le parti dell'Argo originale, ma voleva sostituirle per farle arrivare in porto. Invece gli Ultras, tutta la gente che ha messo gli striscioni nella città, ha voluto avere la barca originale, diciamo quella con i materiali originali, perché la fede, perché… sai, è un ragionamento materialista quello delle persone che hanno messo gli striscioni, ma non è l'unico ragionamento vero. Quindi? Quindi io nel caso delle due opzioni, tu quale avresti scelto? Io avrei scelto la soluzione funzionale, cioè avrei affidata ad una persona che sostituisce le barche, la società, il logo, ma l'avrei portata in Serie C, invece che andare a finire a giocare a Tricase o a Trinitapoli, a Bitonti, invece lo hanno… oppure avrei discusso di questa cosa? Adesso mi piace… Avrei discusso di questa cosa? Avrei discusso, invece lo hanno massacrato immediatamente. Una velocità incredibile. L'hanno massacrato, l'hanno insultato. Tant'è che il problema a un certo punto è sembrato canonico e non Gian Caspro, è successa una cosa incredibile, che sono sfruttate… C'è stato un assalto… Una velocità incredibile che è mancata, a mio avviso, come forma di protesta civile nei confronti invece di una società che stava affondando a proposito di Navi. Esatto, bisognava pensare di più, discutere di più, invece di riempire, insultare. L'hanno messo lo striscione sotto casa sua, è un metodo non tanto… Vabbè, facciamo così le barchette e poi me le regali. Io ringrazio Francesco Monteleone per questa chiacchierata e noi ci ritroviamo domani con il Biancherosso TV Sport. Ciao.